Nel film Leoni dell'esordiente Vicentino Pietro Parolin, Neri Marco Re interpreta Gualtiero, uomo senza qualità e nato con la camicia, in una famiglia agiata, con ville e frequentazioni altolocate. Ma le difficoltà economiche non guardano in faccia nessuno e Gualtiero sarà costretto a rimboccarsi le maniche, diventando così un personaggio simpatico nel quale identificarsi. anche in virtù di quel dialetto veneto sfoggiato con disinvoltura dall'attore marchigiano. Leoni si svolge quasi interamente a Treviso, piccolo omaggio al film culto di Pietro Germi Signore e Signori. Nel cast troviamo una grandissima attrice, Piera degli Esposti, nel ruolo della madre e un'altra chicca del film è la presenza nella colonna sonora dei Los Massadores, bizzarra band che canta in trevigiano. La storia produttiva di Leoni è esemplare, il film è stato finanziato tramite un bando della regione Veneto e ha avuto il sostegno di numerosi imprenditori come main sponsor, da Bisola a Stonefly, dalla banca della marca alla latteria Soligo. Leoni arriva in sala al 5 febbraio con una serata ad inviti al corso di Treviso. È già tutto esaurito, i trevigiani muoiono dalla curiosità.